Sono Emiliano Valtolini, direttore di Trinity College London in Italia. Siamo davvero felici di essere a Didacta Puglia per presentare Trinity College London come educational provider ed ente certificatore da oltre 150 anni. Proponiamo esami di lingua inglese, musica e arti performative e dallo scorso anno stiamo proponendo con grande successo una app per migliorare la propria conoscenza della lingua inglese, Skill Up, quindi vi aspettiamo qui a Didacta.